18 agosto 1946, Pola, maggiore città estriana contraria all'annessione alla Jugoslavia. Il periodo è quello della disputa sui territori dell'Italia orientale, arrivata al termine del sanguinoso conflitto mondiale. Esplode materiale bellico, muoiono 100 persone. È la strage di Vergarolla e tra quelle vittime ci sono anche i due figli di Geppino Micheletti, il medico eroe ricordato nell'aula magna dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, grazie all'iniziativa voluta da Donatella Bracali, presidente del Comitato Provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, iniziativa patrocinata da Regione Abruzzo, Comune, ASL. In quella strage Micheletti perse anche il fratello e la cognata e nonostante il terribile dolore prestò soccorso ai feriti e li operò in maniera continuativa per 48 ore. Una figura che va ricordata, ha evidenziato il sindaco di Pescara Carlo Masci, ospite dell'evento aperto dal direttore generale dell'ASL di Pescara, vero Michitelli? Direttore può essere anche l'occasione per lanciare un messaggio ai giovani studenti per abbracciare questa professione? Sì, lo scopo di oggi è proprio questo, stimolare nei giovani, stimolarli ad abbracciare una professione che non è soltanto un lavoro come un altro, ma implica una vocazione, perché il medico è prima di tutto uno che sente il bisogno dell'altro, lo soccorre e vuole curarlo e quindi è una vera e propria missione. La figura di Micheletti è stata indagata dallo storico Francesco Fagnani, mentre l'attrice Giulia Basell ha tenuto un reading sul tema dell'esilio. Donatella Bracali ha evidenziato l'alto senso di solidarietà di questa figura. Noi ci occupiamo di recuperare quella memoria storica e culturale del confine orientale italiano, le terre dell'Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia che abbiamo perduto in seguito alla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale.